Volevo ora farvi vedere una cosa molto importante sulla creazione degli oggetti quando noi creiamo un nuovo oggetto, per esempio un box vediamo una certa altezza e invece che darlo come new body lo creo come nuovo componente quindi do ok questo oggetto è stato creato, vedete qua, come componente, non c'è body ora creiamo un cilindro giusto per affollare un po' la scena questo è stato creato come body ora voglio creare una copia di questo componente quindi lo seleziono lateralmente lo copio e dopodiché incollo una copia ho due copie del mio componente ma questo è un componente non un oggetto che differenza c'è? prendiamo il primo ora vado a modificarlo per esempio gli applichiamo un fillet guardate cosa succede che anche l'altro oggetto che abbiamo creato come copia del componente prende le stesse modifiche quindi se voi disegnate, progettate un oggetto che non so, se fate la macchina e la gomma della macchina ne disegnate una e poi la definite come componente e create le quattro copie se volete modificare il cerchione o una parte della macchina applicandola a una di queste automaticamente le modifiche saranno riportate su tutte e quattro questa è una cosa molto utile per definire degli oggetti complessi non dover andare a modificare a mano tutte le parti potete creare delle generazioni di componenti quindi partire addirittura da nella creazione creare un nuovo componente dargli un nome che ne so io automobile auto e poi creare una gerarchia aggiungendo altri componenti sotto al componente principale auto basta poi trascinarli ok sono senza mouse qualche problema basta trascinarli quindi si va a creare tutta una gerarchia per organizzare l'oggetto in modo più organico e sicuramente migliore da gestire bene